Il Terri FC conquista la quarta vittoria di fila superando 2-1 a Checcarini, una Nestor che incassa invece il quarto capo consecutivo e resta relegata all'ultimo posto. Senza paradisi, rondoni e proiettivi, Carelli disegna un 4-3-3 con Baldoni Tiberi in porta, Binaglia, Ciurnelli, Alabastri, Ceccarelli nel reparto al ritrato, Covarelli, Mancinelli e Vestrelli in mediana con Genovese, Carrera e Faraghini in avanti. Il Terri FC di Borrello risponde con lo stesso modulo con Kunzi fra i pali, Diandaga, Giotti e Romeo e Flavioni in difesa, Leonardo e Fabris bagnato a centrocampo, con l'ora al monte supportato dai due under Pucci e Pescicani sugli esterni del tridente offensivo, un tridente offensivo in cui resta ancora fuori per sua alifica De Sagasti Zabal. Il primo squillo lo suonano proprio i ternani con Pucci ma Baldoni c'è, quando poi Faraghini sull'altro fronte sguscia via bene c'è Romeo ad alzare il muro. Occhio poi ai due under che si cercano e per poco non si trovano con Pucci che arriva con qualche istante di ritardo sul servizio di Pescicani. Ci prova così alabastri da fuori ma Kunzi risponde presente e quando Pescicani si mette in proprio la sua conclusione sfida sul fondo. Quando a mettersi in proprio invece è bagnato, il centrocampista trova la porta ma c'è il palo a negargli la gioia del gol al minuto 34. Bagnato così ci riprova al 38esimo con la specialità della casa, la punizione dal limite, palla che incoccia la traversa e la panchina ternana esulta come se suonasse l'orologio dell'arbitro passagrilli di Perugia che invece dà un'occhiata all'assistente Polidori e lascia correre. Sul prosiego dell'azione Pescicani viene murato e l'ora al monte finisce giù. Preludio al vantaggio del Terni FC che arriva al 41esimo quando Capitan Flavioni tira fuori dal cilindro questa magia che vale l'1-0 con cui le due squadre vanno all'intervallo. Si rientra e dopo 90 secondi ecco un altro aerogol stavolta in casa marcianese e stavolta con genovese che beffa così Kunzi dai 40 metri sinistro all'incrocio 1-1 Nestor con esultanza da papà per il puntero marcianese. Carrer poi al 57esimo dall'illusione del sorpasso ma dopo aver superato Gaggiotti c'è Kunzi a tirare giù la saracinesca. La Nestor va anche in gol al minuto 71 quando Mancinelli perde l'attimo giusto per battere a rete e la palla finisce su piedi di Carrer che la spinge dentro la bandierina di Polidori si alza fischio di Passagrilli ed è tutto da rifare. Il Terni FC comincia a spingere sulla corsia di destra di andare così prima pennella per Pescicani che non impatta come dovrebbe poi confeziona un cioccolatino per Bagnato che lo scarta e appoggia alle spalle di Baldoni la rete del 2-1 quinto gol nelle ultime cinque partite e il 22 Rosso Verde sfiora anche la sesta marcatura quattro minuti dopo poco importa al Terni FC che porta a casa l'ottavo risultato utile consecutivo restando a meno 4 dalla vetta alla vigilia dello scontro diretto di domenica prossima tra CF Foligno e Angelana. Roberto Borrello, quarta vittoria di fila ottavo risultato utile consecutivo Terni FC a meno 4 dalla vetta e domenica prossima c'è a CF Foligno e Angelana. Sì, però abbiamo noi il città di Castello quindi dobbiamo pensare a noi stiamo facendo grandi cose e niente, bisogna guardarci un po' dietro più che davanti quindi riuscire a tenere questo rullino di marcia ci fa ben sperare. Non era facile oggi però perché la Nestor aveva ritrovato il pari poi? Non era facile anche perché su questo campo non è facile mai venire a fare il risultato abbiamo fatto un bel primo tempo abbiamo trovato il gol abbiamo preso un palo, una traversa quindi potevamo anche chiudere il primo tempo con qualche gol in più poi all'inizio della ripresa hanno trovato questo euro-goal che ti può mettere un po' in difficoltà poi i ragazzi sono stati bravi sono rimasti sempre in partita abbiamo creato poi penso che alla fine la partita l'abbiamo anche meritata. Quattro vittori di fila senza quello che è un po' l'attaccante principe significa che? Significa che c'è un grande gruppo una squadra con dei valori che sa che per vincere le partite bisogna sacrificarsi bisogna allenarsi bene durante la settimana e quindi siamo contenti così. Guido Vicharelli non basta una buona Nestor quarta sconfitta di fila e si resta all'ultimo posto. È proprio quello che ho detto prima della gara ai ragazzi perché fino adesso non è bastata una buona Nestor dobbiamo cercare di fare qualcosa di più perché comunque ci troviamo davanti a delle squadre con grandissima qualità io penso che il Terni FC sia una squadra di altissima qualità e quindi dovevamo essere così bravi da non sbagliare niente da prendere le occasioni tutte quelle che ci capitavano ma purtroppo non è andata così e alla fine siamo stati puniti. L'avevate anche pareggiata con un Euro-goal di Genovese con esultanza speciale? Ma sì ci mancherebbe altro un Euro-goal sì perché lui ce l'ha comunque questi colpi non è un caso perché durante la settimana gli capita spesso però il discorso è che non siamo stati bravi in quel momento magari nell'occasione che ci abbiamo avuto magari potremmo anche chiedere qualcosa di più da questa gara ma che comunque ripeto a cospetto di una squadra che ha giocato molto bene ci ha messo in grossa difficoltà.